Sì, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Lei a riva ridere? Io diamo con te, non di te, tu sei una caricatura di un cliché cinematografico antichissimo. Il vampiro e la sua, c'è una cosa da paura proprio, mi raccomando. Poi Paola? Francesca? Allora, decidiamo noi insieme, dopo la vostra scena, Francesca? Cosa volete e cosa non volete fare? Entriamo la seconda volta io e lei Perché sei sottipolati così? Io non c'ho le calabone, posso fare questo? Ma si, come ti chiedi? Personalizzate pure se vedete i vostri personaggi potete mettere l'impronta perché adesso è davvero ora di vestirsi e una volta superato il primo impatto non si diverte perché è talmente altro da sé che può portare, può caricare puisque non c'hoросpita . ho anche sull'infero